Allora, questo è un concetto molto importante che voi dovete assolutamente conoscere e quando inspiriamo, inevitabilmente, inspiriamo anche un po' di liquido. Questo può essere dato al vapore acqueo piuttosto che da qualche altro liquido. In ogni caso, un po' di liquido va a finire dentro i nostri polmoni, quindi all'interno dei nostri alveoli polmonari. E questo significa che all'interno dei voli nostri... Questo capita, capita sempre, per forza, anche per il vapore acqueo stesso, quindi dipende un po' da tanti fattori, l'umidità e via dicendo, piuttosto che da tanti altri fattori esterni. E quindi all'interno degli alveoli ci ritroviamo molto spesso un sottile strato di acqua, un sottile strato comunque acquoso che riveste gli alveoli polmonari. Mi raccomando, state bene attenti. Adesso però voi, anche dalla chimica generale, conoscete la tensione superficiale e quindi le molecole d'acqua tendono ad avvicinarsi tra loro avendo effetto di contrazione. Quindi se io ho il mio alveolo con il mio velo di acqua che è entrato, queste molecole d'acqua tenderanno a contrarsi, come sapete, dalla tensione superficiale. Andate a riprendere la tensione superficiale dai videocorsi di chimica generale e vi dicendo, sono cose che dovete conoscere, ovviamente si ha un effetto contrazione. Questo significa che a causa di tale velo cosa succede? Il polmone, non il polmone, l'alveolo presso in considerazione implode, implode, perché le molecole d'acqua appunto tendono ad avvicinarsi tra loro, ovviamente, e questo fa, da A, da, come vi ho già detto, un effetto contrazione e fa implodere l'alveolo e di conseguenza questo è uno spazio morto. Viene considerato uno spazio morto, spazio morto, ciò significa che se l'aria entra qui dentro non può avvenire più lo scambio ossigeno-anidria carbonica. Quindi l'alveolo collassa e implode. Allora, tenete conto che ovviamente nei nostri polmoni sono tantissimissimissimi gli alveoli presenti, soprattutto quelli più piccoli tendono ad avere questo problema rispetto a quelli più grandi, quindi dipende anche dal diametro alveolare. E per capire questo, perché sono gli alveoli più piccoli rispetto agli alveoli più grandi a risentirne di questo effetto di contrazione del velo d'acqua? Allora, state bene attenti, questo è un altro concetto di fisiologia dell'apparato respiratorio di enorme importanza, che non è diverso da ciò che abbiamo spiegato, è tutto un seguito. La ventilazione. Voi dovete comprendere che quando inspiriamo, non è che tutta l'aria che inspiriamo va a finire negli alveoli e partecipa allo scambio O2-CO2. Non tutta l'aria fa questo, perché tanta aria rimane, ovviamente, mi pare ovvio, anche un bambino lo capisce, rimane nella trachea, rimane nei bronchi, e via dicendo. Quindi, dobbiamo considerare l'aria effettiva che entra dentro l'alveoli, gli alveoli polmonari e partecipa allo scambio ossigeno a dividere carbonica. Dovete comprendere il concetto di capacità polmonare vitale e la massima quantità d'aria che viene mobilitata, mobilizzata in un singolo atto respiratorio. Quindi, come vi dicevo prima, fate un'inspirazione forzata e poi espirate al massimo svuotando i polmoni fino a che potete. Ecco, adesso ispirate con tutta la vostra forza fino alla vostra capacità limite accumulando tutta l'aria che potete. Questo volume d'aria rappresenta la capacità vitale o polmonare. Il volume d'aria che entra è circa 5 litri. Adesso c'è molta variabilità biologica, ovviamente, è una media. State attenti. Adesso state ben attenti a questo concetto. Allora, abbiamo visto che cos'è la perfusione polmonare, il rapporto ventilazione ventilazione-perfusione VQ che è all'incirca pari a 1. Adesso, però, dobbiamo approfondire un pochettino questo concetto che il rapporto ventilazione-perfusione sia all'incirca pari a 1 non è sempre pari a 1. Dipende dalla regione del polmone in cui ci troviamo. Allora, innanzitutto, volevo dirvi che questo rapporto è una grandezza adimensionale. Mi pare logico. Se la ventilazione è la quantità di ossigeno che raggiunge gli alveoli ogni minuto ed è espressa in litri al minuto al numeratore e al denominatore invece abbiamo la perfusione che è la quantità di sangue che raggiunge gli alveoli nell'unità di tempo anch'essa espressa in litri al minuto che va a sottrarre O2 dall'alveolo questo lo sapete e allora ovviamente numeratore e denominatore tagliate l'itri al minuto tagliate l'itri al minuto al numeratore e denominatore vi ritrovate un numero e basta quindi un coefficiente numerico quindi è una grandezza adimensionale non ha una dimensione questa grandezza quindi il rapporto ventilazione per fusione è una grandezza adimensionale per questo motivo lo vedete qui è matematica elementare adesso state bene attenti e tale rapporto dipende tanto 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 ma tanto tanto anche dal luogo in cui ci troviamo nel polmone cioè se ci troviamo alla base del polmone se ci troviamo al centro del polmone se ci troviamo all'apice del polmone questo perché è